Una volta arrivato in Libia è stato preso e messo in un centro, in una prigione, insomma, dove ha subito torture, tra cui ustioni da sigaretta, è stato percosso, picchiato con dei bastoni nella schiena, i piedi. Ali, 21 anni, yemenita, ci mostra i segni delle torture subite in un anno di prigionia in Libia. Lui, assieme ad altri due ragazzi yemeniti e una donna eritrea cristiana ortodossa con una bimba di 5 anni, sono i richiedenti asilo arrivati ad Arezzo con il primo corridoio umanitario aperto con la Libia grazie all'impegno della CEI e del governo italiano. In tutto 160 profughi, 160 storie di barbarie subite, di soldi pagate ai trafficanti, di famiglie lasciate nei paesi di origine delle quali non si hanno più notizie. È stato bombardato alla sua casa prima che lui uscisse, quindi non ha contatti con la sua famiglia. È proprio un evento storico, il primo corridoio umanitario che il governo libico, insieme a quello italiano, alle Nazioni Unite e alla CEI, hanno organizzato, insomma, prima del Santo Natale. Sono arrivati 162 persone particolarmente vulnerabili, sottratte dai centri di detenzione, autentici carceri e luoghi anche di tortura in Libia. Storie però anche di speranza verso un futuro che per loro adesso è più vicino. Sogno di trovare un lavoro qui, di imparare la lingua e di stabilirsi in Europa.